È domenica sera e niente, ho voglia di piada e nutella, ho già mangiato la piada normale salata, ma adesso ho voglia di nutella e quindi ho preso fuori l'amore della mia vita e niente, oltretutto su YouTube mi daranno il primato dei video più corti del secolo ma va bene, adesso facciamo la piada! E nutella, oltretutto da notare quando mi sono sporcata di ketchup, dicevo una buona cosa nel frattempo che si aspetta che la piada si cuocia a mangiarci la nutella Non so se mettere la nutella o una marmellata, adesso vediamo, ho metto la nutella e ho metto la marmellata Mmm Abbast champi Abbast Abbast Grazie a tutti.